Tagliavento, ma potrebbe essere importante incrementare la comunicazione tra arbitri e organi di informazione per diminuire il tasso polemico anche a volte di alcuni commenti? Potrebbe essere importante se l'obiettivo è comune lo stesso, se l'obiettivo magari del suo collega magari è quello di comunque cercare la polemica, il confronto è quasi utile, se invece è quello di arrivare a una sorta di verità su quello che magari sono le dinamiche di una partita di calcio potrebbe essere interessante, sicuramente comunque la nostra associazione il nostro presidente ha più volte aperto a noi arbitri e questa intervista lo sta testimoniando e comunque un confronto leale e corretto ci può stare a stendere Senta, ma quanto pesa, se pesa, essere considerato un'eccellenza della città? Ma non è un peso ma è assolutamente un piacere, poi della propria città è una cosa che fa particolarmente onore amo questa città, amo la gente di questa città, ci sono nato e fa parte della mia vita e essere apprezzato da queste persone è sicuramente una cosa piaceva